Le occupazioni abusive sono sempre illegali e non vanno giustificate, ma va detto che queste situazioni a volte sono collegate all'emergenza abitativa. E un paese che non è in grado di garantire il diritto alla casa non è un paese degno di chiamarsi civile. Il diritto alla casa si può garantire nell'ambito della legalità con i fondi appropriati. Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di un'iniziativa a proposito della doppia occupazione abusiva avvenuta ieri. Il diritto alla casa si può garantire nell'ambito della legalità con i fondi appropriati, ha aggiunto. Purtroppo nel 2023 è stato tagliato il fondo degli aiuti agli affitti, ben 360 milioni di euro. Quindi noi chiediamo che si ripristini almeno lo stesso fondo del 2022. Sarebbe importante addirittura portarlo a 500 milioni di euro, visto che si parla della necessità di dare strumenti alle famiglie per affrontare il caro affitti e affrontare l'inflazione. Abbiamo preso contatto sia con il prefetto che con il questore ieri, nelle ore immediatamente successive alle occupazioni. Questa mattina è stato convocato d'urgenza il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Come sapete la posizione del Comune è sempre la stessa. Quando ci sono occupazioni occorre intervenire velocemente per evitare che la situazione peggiori, soprattutto laddove ci sono famiglie con minori e donne, ed è il caso di Via De Massone. Il Sindaco ha ribadito che ci sono zero euro. Come Comune abbiamo lanciato un piano ambizioso per restaurare ben 500 appartamenti. Sui primi 100 stiamo lavorando e li finiremo con risorse nostre. Non abbiamo un euro dallo Stato per poter intervenire su tutta l'edilizia popolare che può essere ripristinata. Abbiamo oggi 800 alloggi che sono non assegnati ma perché non sono in condizione di essere abitati. Così come c'è bisogno di realizzare alloggi nuovi.